salve a tutti a tutti siamo nel canale dell'osservatorio poi del progetto prima dell'università di siena oggi iniziamo questa serie di interviste con i progetti vincitori dell'ecol 2020 e abbiamo il piacere e l'onore di ospitare il professor paolo aimone marsan dell'università cattolica di milano che con il progetto scala medi un progetto molto interessante appunto ha vinto una delle cose professore innanzitutto buongiorno grazie alla sua ci può spiegare un attimo in maniera breve questo progetto scala medi ho visto che si occupa abbiamo visto una scheda si occupa di ovini di allevamento di avicoli avicoli nel nord africa una cosa interessante si parla di allevamento non è consueto in questo momento in che cosa consiste allora diciamo potrei iniziare con le parole chiave del del progetto e per le chiave sono biodiversità ecco quindi valorizzazione e conservazione della biodiversità soprattutto quella del nord a dei dei paesi che partecipano con noi e con la francia al progetto presi del nord africa che sono algeria marocco tunisia sostenibilità quindi sostenibilità anche della conservazione quindi l'utilizzo di queste risorse locali e la conservazione utilizzandole non tenendole come in uno zoo e anche comprensione della capacità di questi animali di vivere e di produrre in ambienti climatici estremi a volte molto duri caldi secchi con un'alimentazione povera e questo è interessante per il nostro futuro in visione anche di dovere continuare la produzione di alimenti animali in condizioni climatiche che stanno cambiando rapidamente ecco perché perché lì sembra un po strano ma in queste zone che sono un po semi deserti che invece abbiamo un allevamento cioè un allevamento che è importante appunto fare allevamento di soprattutto di piccoli ruminanti che sono più diciamo rustici per cui riescono a sopravvivere condizioni ambientali appunto molto molto forte e poi diciamo hanno queste razze locali sono allevate da millenni in quelle condizioni per cui sono state selezionate dall'ambiente naturale non dall'uomo per poter sopravvivere e produrre in quelle condizioni e diciamo i polli anche sono diciamo alla base delle dell'alimentazione di moltissime famiglie e forse i polli sono la risorsa animale più importante a livello mondiale soprattutto per quelli che si chiamano small holder perché perché per le famiglie per i piccoli allevatori che hanno quindi pochi polli con cui però riescono a introdurre nella dieta quel poco di proteine animali e di componenti della dieta di origine animale che diciamo migliorano la qualità dell'alimentazione quindi la loro qualità della vita poco verrà anche professore senza andare troppo lontano e senza pensare ma poco come era anche nell'italia nella cultura contadina ottocento novecento avere laia gli animali da cortile che poi in qualche modo aiutavano la sussistenza familiare un po questo è il senso si devo dire che ho viaggiato un po nei paesi in piedi di sviluppo ed è esattamente quello più difficile è un po un viaggio nel tempo ecco ok ma da questo punto di vista questo progetto a noi interessa capire di questi diciamo così di questi animali perché qual è il nostro fine possiamo costruire nuove razze migliorare perché oggi non è la zootecnia c'è così uno dei temi è sempre quello del miglioramento della razza e questo la finalità è una delle finalità allora il e usiamo in questo progetto come in altri progetti precedenti questi nuovi strumenti molto potenti che sono messi a disposizione dalla genomica quindi adesso è possibile analizzare genoma degli animali e delle piante dell'uomo a un costo di tipo accessibile e questo questo permette e ha permesso nei nostri paesi di velocizzare il miglioramento genetico quindi la selezione degli animali moltissimo si stima che sia un'accelerazione di tre volte come un'automobile che al massimo faceva 50 all'ora adesso fa 150 questo vuol dire che abbiamo degli strumenti per selezionare molto velocemente ma prima di selezionare dobbiamo capire quindi dobbiamo capire quali sono le zone del genoma le varianti che ci sono nel genoma che determinano che razze particolari per esempio quelle allevate nel deserto del sahara riescono a sopravvivere in quelle condizioni e questo permetterebbe a noi quindi nella parte nord del del mediterraneo di selezionare velocemente per animali che resistono meglio a cambiamenti climatici che adesso sono in corso e sono rapidi per cui e dobbiamo essere pronti a selezionare in modo più veloce possibile altrimenti non riusciamo a stare dietro alle variazioni quindi una cosa del tutto naturale cioè non perché molte volte si pensa abitazioni cose varie invece questa è una cosa naturale andiamo a capire come mai questi animali resistono un po di più il loro codice e magari forse riusciamo a capire anche se i nostri hanno qualcosa del genere o non possono avere qualche geni allora possono averlo nel senso che quello che succede che tutti gli animali o molte la maggior parte degli animali sotto pressione selettiva per il caldo per idee per dire devono avere i geni di resistenza al caldo se andiamo sulle alpi i nostri animali possono averli ma non è necessario che li abbiano possono averli quindi non hanno una pressione selettiva per cui questi questi varianti aumentano di frequenza ma possono essere lì per cui possiamo potremmo fare una selezione mirata conoscendo però che cosa selezionare l'altra possibilità è quella di di organizzare del breeding quindi fare degli incroci e poi rincrociare gli animali sul sulle nostre razze che sono sicuramente più produttive rispetto a queste razze nordafricane e però sapendo che selezionando continuando a incrociare sulle nostre razze dobbiamo mantenere quel pezzettino di genoma africano perché quello è quello che ci dà proprio non è un solo pezzettino saranno diversi pezzettini che si dà questa caratteristica di resistenza al caldo è un esempio certo certo professore quanto invece lei ha detto magari l'animale sulle alpi non ha bisogno di attivare ecco le voglio fare questa domanda quanto quanto l'ambiente in qualche modo viene a cambiare anche le caratteristiche dell'animale forse anche poi dell'uomo tutto sommato questo è un fattore che voi state studiando è un fattore che stiamo studiando proprio in questo progetto e diciamo è un po la frontiera della ricerca se ne sa ancora un po poco da questo punto di vista è un fenomeno che si chiama epigenetico cioè non dipende dalla genetica ma da come l'ambiente influenza il dna e ne permette l'espressione quindi il se noi anche avessimo due gemelli identici quindi hanno esattamente lo stesso genoma ma questi hanno delle esperienze diverse di stress uno può essere stressato l'altro no e allora il loro fenotipo cioè quello che producono negli animali come resistono ai sfide delle dei patogeni o di un'alimentazione non adeguata cambia ma non perché cambi il genoma perché cambia l'epigenoma e noi abbiamo delle in questo progetto abbiamo proprio due esperimenti che sono dedicati a questa cosa per cui uno per esempio in tunisia dove andiamo a allevare animali che sono simili dal punto di vista genetico per cui la sarda della sardegna e la siculo sarda che è una razza che è imparentata con la sarda ma allevate in tunisia da tantissimo tempo e andiamo a vedere questi segnali epigenetici in queste razze allevate in tunisia in climi diciamo molto estremi dal punto di vista del caldo in climi invece molto più miti e poi li confrontiamo con la razza sarda allevate in sardegna cioè dove è adattata ormai da secoli a produrre e vogliamo vedere se riusciamo a capire qual è l'influenza dell'ambiente su questi segnali epigenetici interessante interessante questo concetto di epigenetica professore ma quali sono poi alla fine i vantaggi per queste popolazioni nordafricane e i vantaggi per noi da questo studio in un'ottica diciamo così di sostenibilità visto che poi il progetto prima si occupa sostanzialmente di promuovere una ricerca che possa costruire un sistema di agri food sostenibile allora per noi essenzialmente la il possibile vantaggio è quello di di fronteggiare il climate change in modo più efficace questo essenzialmente il vantaggio per invece le diciamo le razze e i paesi che partecipano nel nordafrica da una parte c'è una caratterizzazione della biodiversità caratterizzazione che potrebbe essere legata anche alla valorizzazione perché caratterizzare la biodiversità vuol dire anche mettere insieme una serie di strumenti che permettono la tracciabilità del dei prodotti e noi a noi piacerebbe appunto promuovere l'utilizzo di queste razze locali assicurandone anche la tracciabilità cioè facendo sì che si possa ci sia un sistema per riconoscere che quel tipo di prodotto viene da quel tipo di allevamento e di razza una sorta di block chain della razza quasi esattamente esattamente l'altra cosa di valore aggiunto ci sono altre due cose la prima cosa è che vorremmo portare e mettere a disposizione l'esperienza guadagnata in progetti precedenti e nel sistema allevatoriale dell'europa in africa facendo una specie di salto di tecnologia nel senso che faccio sempre questo esempio l'africa non è non è stata mai connessa con le linee telefoniche di tipo tradizionale e adesso farlo adesso sarebbe che anche perché sarebbe stato un costo enorme ma il problema è che quindi è stata sconnessa fino all'avvento del cellulare adesso il cellulare quindi salto tecnologico fatto nei paesi industrializzati ha permesso di portare una tecnologia che ha fatto un salto quindi ha saltato totalmente le linee telefoniche del telefono e adesso l'africa è totalmente connessa con le linee cellulari allora noi vorremmo fare un po la stessa cosa utilizzando la genomica quindi il di tecnologie del dna che adesso si usano tantissimo nel paesi industrializzati per fare miglioramento genetico miglioramento genetico è sempre stato basato sulla misura dei fenotipi e poi sull'utilizzo di diciamo modelli statistici per stimare il valore genetico degli animali adesso è possibile fare il salto tecnologico anche nei paesi in via di sviluppo cioè permettere una 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 sezione più rapida col dna saltando la parte di diciamo miglioramento genetico tradizionale però ecco una cosa importantissima anche per il dna è necessario avere dati sugli animali perché si è più veloci ma c'è bisogno di organizzazione per la raccolta dati sugli animali quindi da questo punto di vista vogliamo fare due cose prima di tutto mettere in connessione gli small holder quindi da dove andremo a compianare con le università per quindi questa connessione spesso manca e oltretutto abbiamo coinvolto nel progetto nei tre paesi le associazioni degli allevatori per cui questo diciamo ci sono tre anni per cui gli allevatori e le associazioni allevatori devono parlare con le università e con noi quindi cerchiamo di implementare questa connessione oltretutto testiamo un sistema di raccolta dati fenotipici dei nuovi sensori che sono stati sviluppati da un'industria nostra italiana si chiama nature 4 e questo è uno sensore a molto basso costo è in grado di mandare i segnali di quello che sentono che possono essere i movimenti possono essere stiamo stanno lavorando anche su una indici di saturazione a proposito di covit indice di saturazione dell'ossigeno del sangue che è sintomo di stress anche un proxy per lo stress anche a metri di distanza quindi sono adattabili anche ad animali e al pascolo e quindi stiamo portando e testando questa tecnologia anche in pieno campo in quelli in quelle condizioni con allevamento 4.0 tecnologie quindi saltiamo saltiamo tutto quello che è tradizionale e utilizzando anche i sistemi appunto cellulari nel senso che che quelli sono già stabiliti perché gli allevatori poi hanno i cellulari e cerchiamo di unire le tecnologie per cercare questo di fare questo salto tecnologico perché perché vorremmo cioè l'unico modo per conservare la biodiversità nel settore zootecnico ed è importante perché appunto queste popolazioni hanno dei geni utilissimi anche per noi l'unico modo è quello di farlo utilizzare per cui cercare di migliorarle velocemente e cercare di tracciarle e ci sarà anche un work package del progetto che sarà socio economico per capire quali sono le preferenze dei consumatori per cercare di indirizzare anche la selezione verso eh gli obiettivi che che sono apprezzati dai consumatori mi sembra davvero molto interessante questo progetto ha diverse ricadute quindi poi la continueremo a seguire per eh capire un po' l'evoluzione però ora professore diciamo così si parla di animali e l'occasione è troppo ghiotta no? Quando si parla di sostenibilità gliela devo fare questa domanda perché quando si parla di sostenibilità soprattutto in questo momento eh viene visto la catena dell'allevamento come qualcosa di insostenibile che andrebbe in qualche modo ridotta invece lei ci sta spiegando che in alcuni posti in alcune popolazioni l'allevamento è cioè così eh una forma di resistenza di sopravvivenza come la mettiamo rispetto a tutto il dibattito occidentale dove dobbiamo sostituire le proteine animali dobbiamo sempre tutto eh bandito essere un po' il male supremo no? Purtroppo noi eh ragioniamo guardando il il la nostra provincia cioè siamo molto locali da questo punto di vista no? Eh dobbiamo invece cercare di avere una visione dall'alto una visione che ne so dalla dalla stazione spaziale del del pianeta ecco e questa visione cambia completamente no? Se guardiamo dall'alto perché eh le produzioni animali sono veramente alla base del sostentamento di milioni e milioni di famiglie di piccole agricolture e ehm la domanda di 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 carne le prove di 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 alimenti di origine animali è in crescita molto forte non da noi eh noi eh non parliamo del del degli americani ma noi forse consumiamo troppo possiamo ridurre diciamo il consumo di 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 produce di origine animali ma potremmo farlo potremmo farlo ehm eh ma dobbiamo renderci conto che a livello mondiale eh con lo sviluppo economico una famiglia che non ha mai, e ce ne sono milioni che non consumano prodotti animali, non appena aumentano il reddito cambiano dieta. Cambiano dieta perché un apporto di proteine animali e di prodotti di origine animali nella dieta è fondamentale per la salute, lo sviluppo neurologico, ci sono degli studi nei bambini soprattutto molto molto importante. Quindi quello che succede è che in realtà in questi paesi dove aumenterà moltissimo la domanda di prodotti animali, il sistema è poco efficiente nella produzione animale. Da noi invece queste produzioni intensive che sono sotto il mirino in questo momento hanno raggiunto un'efficienza molto forte, quindi da una parte bisogna cercare di diminuire l'impatto ambientale delle nostre produzioni, dall'altra parte bisogna cercare di raggiungere quella che la FAO chiama una intensificazione sostenibile. Quindi dobbiamo andare nelle due direzioni opposte, cioè aumentare l'efficienza nei paesi in via di sviluppo e diminuire l'impatto ambientale da noi. Poi noi potremmo anche diminuire un po' la... Come sempre è una questione di ridistribuzione, è la solita cosa della media, c'è un pollo, ci sono due, noi lo mangiamo tutto e qualcuno non lo mangia, dobbiamo abbassare il nostro stile di vita per cercare di dare la possibilità ad altri di fare. Mi sembra che questo sia un po' il tema. Esattamente e devo dire questa cosa, è chiaro che è un'opinione pelosa, tra virgolette, ma la ricerca è assolutamente alla base della soluzione di questi problemi e i giovani che devono, quindi non sarà più un compito, adesso io posso indirizzare, ma non sarà più un compito mio, ma sarà il compito delle nuove generazioni cercare di risolvere questi problemi che sono problemi fondamentali anche per il benessere della popolazione umana, perché problemi sociali saltano fuori anche da problemi ambientali di accesso alle risorse, eccetera. Certo. Professore, grazie per la sua chiarezza, anche per aver risposto a questa domanda, ma era troppo interessante poter sapere il suo punto di vista autorevole rispetto a questo tema. Noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro e cercheremo poi nel corso di questi tre anni di risentirci per capire verso come sta andando questo progetto Scala Media. Arrivederci e buon lavoro. Grazie, grazie mille. Arrivederci.